Allora ci andiamo a vedere le 2 a 2 di una delle ex squadre di Mario Soma perché da calciatore ha giocato con la Salernitana e alla Salernitana ha tutto l'affetto del mondo, no? 2 a 2 della Salernitana contro il Treviso Ognuno di noi è tifosi di una squadra, io della Salernitana Spareggio salvezza, un punto per uno per Salernitana e Treviso 1 a 1 al Braia, Trampagno